Siamo giunti alla quinta stagione concertistica, per noi è un piccolo e importante traguardo. Quest'anno la stagione che presenteremo sarà comunque di 12 concerti e includerà musicisti provenienti da alcune tra le più prestigiose orchestre europee. Ospiteremo solisti dei leggendari Berline Philharmoniker, della Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, del Champs-Élysées di Parigi e quindi una stagione all'insegna della qualità artistica e delle eccellenti collaborazioni. Dove si svolgeranno questi eventi? Gli eventi si svolgeranno prevalentemente tutti quanti all'Autorium Flaiano alle ore 19 e quasi tutti considerano le weekend nel sabato, fatta eccezione per il concerto pre-natalizio, l'evento speciale concerto più cena che invece sarà all'Aurum. Vogliamo un attimo anche spiegare a beneficio dei telespettatori la vostra associazione Colibri Ensemble e cosa fa durante l'anno? Sì, la nostra associazione è nata appunto proprio per promuovere eventi culturali, in particolar modo musicali, finché poi nel 2013 è nata questa orchestra e in realtà ciò che ci terrei a dire è che si tratta in realtà non tanto proprio di una stagione concertistica ma di la creazione di una vera e propria orchestra a Pescara che ormai realizza concerti da cinque anni, quindi un progetto ben più ampio di una semplice stagione concertistica. Grazie. Grazie.